Quando la Web TV incontra la Web Radio ne succedono veramente di tutti i colori. A voi i Chemical Attack. Salutiamo la nostra webcam. Ci stanno dipendendo, vogliono farci un'intervista doppia. Intervistiamoci doppiamente. Ciao, piacere Niccolò. Deborah, la Web TV per qualche riguarda questo momento incontra la Web Radio. Quindi Dialogo TV insieme a Chemical Attack. No, sei sbagliata, non incontra la radio, incontra tre o quattro fogli. No, tre fogli un animale. E soprattutto degli imbucati, vedo, su Facebook. Siamo imbucati di brutto. Cioè, Tommy deve venire a sonare qua dopo e fa, eh, non so se gli sto a parire la radio. No, noi facciamo la radio. Ma da dove trasmettete? Quando trasmettete? Da casa nostra. Da casa nostra, dal Kebabbaro, dal Me Too Big. Dipende, dove ci troviamo in giro in giro. Vi basta un computer e una webcam? Aspetta, no, no, un mixer, ma soprattutto un tecnico. Tommaso. Perché se non ci fosse lui, noi qua spariamo tante di quelle barcate, però se non ci fosse lui che passa i pezzi, che sa toccare le manopole. Che monta il microfono, devi registrare, non riesci a registrare per un'ora, poi dici, Tommy, ma controlla i cavi. No, no, a posto, no, controlla. Ah, no, era il contrario. Ma da quanto tempo trasmettete? Quinta puntata. Ben cinque puntate? Oggi inauguriamo la nuova rubrica Soni, musica sbagliata. Tommy, scegli il pezzo sbagliato. Quanto sbagliato? Ma ammettilo tanto sbagliato, tipo uno di quelli che hai scelto Bob. Dovete spiegarmi come è nato questo progetto, cioè, voi siete dei compagni del... No, ma un giorno vi ho detto, ma a casa mia, ascoltiamo due o tre pezzi di musica. Il pezzo non puoi più dirlo a Milano. No, questo no, perché? Non si può dire pezzo? Eh, no. Perché ricorda il fumo? No, perché? Va bene. Comunque niente, ascoltavo musica e mi fa male, vuoi fare un programma in radio? Così da nulla, cioè, io... Come scusa? Lo vuoi fare un programma in radio? Che radio? Cioè, chi è il folle che ti fa andare in onda? Eh no, parlando così, per gioco o per scarso, l'ho buttata a uno, credevo mi dicesse di no, invece mi ha detto di sì, adesso lo dobbiamo fare. Siccome da lì ci ascoltano, cioè, da lì ci vedono, da qui ci ascoltano, lo stiamo passando un pezzo da quanto? Passa la sigla e poi metti una canzone sbagliata, anche parole.